Ciao a tutti ragazzi sono Epitriaper e bentornati in questo nuovo episodio della serie di Minecraft che come potrete notare si trova in una zona differente rispetto a quella dell'ultimo episodio infatti ragazzi vi avevo detto che se in caso l'aggiornamento TU54 fosse arrivato presto rispetto all'inizio della nuova serie avrei deciso un attimino di aspettare e di continuare gli episodi in quanto mi sarei dedicato a ricostruire completamente la casa in un mondo diverso in maniera tale che io abbia più probabilità di trovare una wooden mansion all'interno delle foreste di Quercia Oscura quindi ragazzi in questo periodo in cui non ho caricato video mi sono dedicato un attimino appunto al costruire di nuovo la casa in sopravvivenza ascoltando alcuni dei vostri consigli per quanto riguarda il camino e alcune estetica all'interno seguendo appunto i consigli dello scorso episodio innanzitutto come potete vedere il camino l'ho fatto un pochino meno squadrato qua in maniera tale che effettivamente abbia una forma migliore e all'interno l'ho fatto di dimensioni ridotte in maniera tale che non occupi tanto spazio e che effettivamente ci stia un pochino meglio come potete vedere inoltre non ho applicato tantissime modifiche per quanto riguarda l'estetica della casa al primo e al secondo piano bensì ho applicato qualche modifica al terzo piano che a dire vero sarebbe il secondo piano che è questo qua infatti come potete vedere adesso è molto più decorato rispetto all'ultima volta e da questa parte c'è una piccola stanza che vorrei tenere per un progetto futuro del quale adesso non ho intenzione di spoilerarvi nulla tra l'altro ragazzi come potete vedere sono spawnato abbastanza vicino a questa zona io sono praticamente spawnato qualche metro più avanti dove c'è precisamente quella grandissima pianura e come potete vedere la zona che mi son trovato all'interno di questo mondo è veramente veramente molto bella tra l'altro qua dietro c'è una sorta di collina rialzata come potete vedere che secondo me sarà molto utile per fare qualche progetto di costruzione in futuro tra l'altro ragazzi volevo dirvi che spero che vivamente in questo mondo ci sia una wooden mansion ma appunto visto che comunque in quasi tutti i mondi adesso ci sarà una wooden mansion sono abbastanza ottimista quindi non mi dedicherò a cercarne una disperatamente bensì con l'esplorazione che cominceremo a partire da questo episodio spero di trovarne magari qualcuna in futuro infatti ragazzi questo episodio sarà dedicato interamente all'esplorazione sia del mondo che magari di qualche caverna che troveremo più che altro per il semplice fatto che ho bisogno di qualche minerale per farmi degli oggetti migliori semplicemente magari avere già un qualche tipo di armatura spero più che altro di ferro tra l'altro come potete vedere qua intorno ho dovuto ripiantare tutti gli alberi vabbè voi non li avete visti ma comunque ho dovuto demolire un casino di alberi dopodiché rimpiantarli tramite i sapling perché la mia casa ha costato un pochino di legna e tempo e detto questo ragazzi volevo direttamente cominciare a esplorare la parte davanti all'entrata di casa mia non peraltro ma perché come potete vedere se mi continuo a dirigere in questa zona la mappa finisce quindi voglio anche un attimino riempire la mappa con ciò ragazzi non voglio rendere l'episodio molto noioso quindi mi dedicherò più che altro a cercare qualcosa off camera appena trovo qualcosa interessante vi interromperò cioè non a dire che mi interromperò ma bensì interromperò il taglio a questo punto ci vedremo anche se qua noto già la presenza di una piccola caverna che a questo punto potremmo già esplorare tra l'altro ragazzi volevo dirvi una cosa che in molti mi avete fatto notare ultimamente ovvero che è diventato impossibile mandarmi le richieste a amico questo ragazzi per il semplice fatto che ho la lista amici piena su ps4 quindi d'ora in poi ragazzi mi spiace vivamente ma non potrò piacettare appunto richieste a amico perché ho la lista amici piena con ciò ragazzi quando farò delle open lobby e cose di questo tipo cercherò comunque di invitare i giocatori che magari mi invitano mi mandano un messaggio appunto scritto invitami a quel punto farò delle open lobby in maniera tale che anche quelli che non sono nella mia lista amici possano entrare comunque ho intenzione magari di fare qualche open lobby a breve visto che comunque abbiamo raggiunto il traguardo incredibile degli 8000 iscritti io come sempre sapete ragazzi tendo più che altro a ringraziarvi per il supporto che mi lasciate con il passare del tempo e non tanto per via dei numeri in quanto non mi impongo obiettivi numerici e quindi ragazzi ci tenevo vivamente a ringraziarvi per avermi dato così tanto supporto fino a farmi ad arrivare veramente una cifra di 8000 persone che comunque sono veramente veramente tante con ciò qua intorno vedo che la caverna sembra una caverna non molto ampia che si basi più che altro su piccoli cuniculi che sono poi incastrati tra di loro e quindi ragazzi a questo punto mi sa che conviene fare veramente un taglio e vi interrompo appena trovo qualcosa interessante ci sono un bel po' di scheletri che sono dei mob pericolosi quando non si dispone di un'armatura quindi dovrò stare molto attento, ci sono anche dei ragni e degli zombie però non mi danno tanto fastidio e quello zombie lì mi ha droppato una carota da quanto ho visto che è molto buono perché io nell'orto avrei bisogno delle carote e secondo me le carote sono uno dei cibi migliori su minecraft in quanto sono coltivabili, non hanno bisogno di essere cucinate e ricaricano un casciotto e mezzo di fame che comunque se ci pensate è un buon quantitativo per un oggetto che non ha bisogno di essere cotto là c'è uno scheletro, ci sono uno scheletro e un ragno che mi hanno visto quindi a questo punto mi dedicherò un attimino a... ok, lo scheletro e un altro scheletro si stanno colpendo quindi lascerò fare tra di loro prendo il ragno e nel frattempo recupero anche il ferro che c'è qua visto che comunque il ferro per adesso mi servirà visto che ancora non ho costruito una farm adesso, credo che entrambi gli scheletri si siano seccati a vicenda quindi non mi devo neanche gestire uno dei due rimasti in quanto si sono appunto ammazzati tra di loro e qua vedo che c'è un pochino di ferro quindi lo prendo tutto molto volentieri ok ragazzi, questa non so se per voi è la prima volta ma per me è la prima volta che riesco ad avvicinarmi così tanto a un pipistrello senza che questo esca dalla sua posizione di riposo è onestamente abbastanza interessante in quanto credevo che a una distanza di 5 blocchi i pipistrelli si mettessero a volare e infatti devono averla ridotta perché nel momento in cui ho saltato si è messo a volare comunque è stato abbastanza interessante vedere la texture del pipistrello messo in modalità riposo che ancora non avevo visto da così vicino ok ragazzi, ho notato che praticamente la caverna non si espande ancora di più in profondità e ho notato che nelle parti superiori delle caverne che c'erano tutte annesse a quella lì che stavo esplorando adesso stavano cominciando a sponare tantissimi mob per via della presenza della notte quindi adesso ragazzi mi metto un attimino a dormire fondo il ferro che ho appena ricavato e magari lo utilizzo per farmi o un'armatura o qualcosa di utile per continuare l'esplorazione a questo punto mi dedico o a esplorare ancora un pochino il mondo per vedere se riesco a trovare altre caverne appunto ci dedichiamo ad esplorare un attimino la crosta terrestre per vedere se riesco a trovare qualche villaggio o cose simili ok ragazzi sono riuscito a farmi praticamente tutta l'armatura a parte i pantaloni in ferro tra l'altro mi è avanzato un pochino di ferro che ho messo a questo punto in una chest e direi quindi di piantare la carota sperando che cresca abbastanza bene da poterne poi piantare anche altre in futuro tra l'altro ragazzi se credete che le erbacce all'interno dell'orto siano un errore no, non sono un errore bensì le ho fatte apposta per fare in modo che l'orto sia un pochino più decorato che secondo me ci sta anche abbastanza bene a questo punto ragazzi continuo un attimino l'esplorazione sempre verso questa direzione e se trovo qualcosa di interessante deciderò insieme a voi a questo punto se vale la pena di esplorarla anche se noto di qua la presenza di una caverna abbastanza interessante quindi direi un attimino di dare un'occhiata a questa caverna proseguo in due direzioni anche se credo che di qua appunto sia una zona più che altro vuota e quindi un vicolo cieco qua c'è già del ferro che mi piace abbastanza ragazzi nel prossimo episodio faremo quasi sicuramente costruzione quindi se avete qualche consiglio più che altro per qualcosa di utile è non troppo complicato da fare quindi magari non lo so un mulino direi che ora è soltanto più che altro decorativo e non vale tanto la pena di farlo ma se per esempio avete idee come un faro o idee che possano appunto essere utili magari per l'esplorazione tramite mare o magari qualche farm che sia abbastanza semplice da fare all'inizio consigliatemelo che comunque valuterò quale sarà la cosa più opportuna da fare per appunto iniziare al meglio la serie allora di qua tra l'altro c'è un piccolo torrente che però arriva dall'alto quindi a questo punto non lo controllo bensì voglio guardare dove ci porta questo torrentino qua che più che altro si dedica appunto a scendere nella caverna quindi a questo punto illuminiamo un attimino qua c'è altro ferro che non fa mai male e mi sembra che la caverna sia già finita qua il che mi può dispiacere abbastanza e effettivamente sì è finita però c'è del ferro che mi fa molto piacere a questo punto mi dedico un attimino a raccoglierlo tutto e mentre da questa parte dove c'è il torrente che vi dicevo prima che sembrava non condurre da nessuna parte perché in superficie noto che dall'altra parte esattamente di qua c'è una zona che va più in profondità il che è abbastanza interessante perché potrebbe condurci in una zona della caverna che dall'altra parte non è accessibile quindi vediamo un attimino no effettivamente non c'è nulla quindi a questo punto ragazzi ricavo tutto l'ultimo ferro che è rimasto qua e andiamo a cercare qualcos'altro da esplorare che ragazzi ho anche recuperato il ferro che c'era all'ingresso di quella caverna quindi se mi avete scritto di doverlo andare a recuperare non preoccupatevi l'ho già recuperato grazie lo stesso per tutti coloro che l'hanno comunque scritto e da questa parte noto che ci sono anche dei cavalli quindi c'è il potenziale spawn per dei cavalli che a questo punto potrei sfruttare per appunto andare a prendermi un equino per esplorare poi in futuro quindi mi va più che bene però devo trovare ancora un dungeon o qualcosa che mi fornisca una sella vedo che è abbastanza pieno di caverne in questa zona magari le caverne non sono profondissime non conducono da zone comunque troppo interessanti ma comunque aver la possibilità di trovare del ferro comunque dei minerali iniziali all'interno di queste caverne è comunque sempre buono spero ovviamente di trovarne qualcuna più interessante in futuro magari perché queste mi sembrano tutte dello stesso stile ovvero che non si allargano poi una volta arrivate più in profondità bensì che appunto si blocchino dopo un tot tra l'altro qua ci sono un creeper e uno scheletro per favore esplodi creeper che così mi togli dai maroni lo scheletro bravo e di lì vedo che c'hanno zombie ma lo zombie non dovrebbe essere troppo problematico quindi basta far così e bam via anche lo zombie basta scheletri per favore niente anche questa caverna dopo poco come potete vedere si è rivelata un flop quindi a questo punto continuo a dare un'occhiata da questa parte spero di trovare qualcosa di interessante perché continuare a fare dentro o fuori dalle caverne non è molto bello da vedere ma soprattutto non è molto interessante uh c'è un piccolo lago di lava al quale devo stare attento perché se qualcosa prende fuoco poi diventa un macello quindi a questo punto distruggo tutta l'erba con intorno che potrebbe prendere fuoco per la vicinanza con la lava e a questo punto non dovrebbe essere più di tanto pericolosa qui le foglie non dovrebbero andare a fuoco quindi tutto bene per il resto continuando da questa parte noto la presenza di una foresta oscura quindi magari se qua intorno c'è una mansion non sarei contento e là c'è un deserto che tra l'altro si trova dalle sponde opposte rispetto al fiume che c'è di fianco a casa mia quindi direi di esplorarlo magari in futuro di qua c'è un possibile fossato che a dire il vero non è un fossato bensì è semplicemente una buca che sembra quasi c'è una mansion ok aspetta c'è una foresta oscura di qua o una foresta oscura di là va bene tra l'altro la mansion non so voi ma a me sembra spezzata adesso vado a controllare non la esploreremo perché sono equipaggiato troppo male per esplorare la mansion quindi magari appena avrò almeno un equipaggiamento di diamante l'andremo ad esplorare ma non so voi a me sembra quasi buggata non so se vedete ma c'è la parte superiore della mansion che è quasi tagliata in è buggatissima sta mansion sì è buggata vediamo un attimino com'è però perché sono curioso di vedere com'è spawnata ed effettivamente ne manca metà ragazzi direi che si potrebbe anche esplorare a sto punto com'è successo? cioè è spawnata una mansion però ne è spawnata metà ok non mi è mai successo neanche nel mio mondo principale adesso parlo del mio mondo principale come se fosse una roba che dovreste vedere su youtube no ragazzi è un mondo in cui gioco quando voglio rilassarmi per esempio infatti ho vari mondi all'interno di quali gioco e è una mansion buggatissima ok tra l'altro ragazzi scusate un attimino il piccolo taglio ma mi hanno chiamato a questo punto sento dei vendicatori che mi faranno sicuramente parecchio danno visto che ho poca armatura allora e a questo punto direi di mettere per utilità allora visto che mi attaccheranno la spada vicino al cibo così che se poi perdo dei cosciotti posso recuperare tranquillamente picconi lontani tanto dubito che mi servano e a questo punto magari qualche blocco per ripararmi in caso io sia in fin di vita tu devi starmi lontanissimo brutto schifoso allora vabbè lui è caduto quindi lo lasciaremo un attimino lì giù ce ne saranno sicuramente altri qua in giro vi stavo appunto dicendo ragazzi sento dei vendicatori qua intorno oltre appunto allo scheletro c'è una cassa la cassa contiene armatura di diamante non lo sapevo che ragazzi sono abbastanza sorpreso dal corsaletto di diamante perché non avendo mai esplorato tutta la magione non mi sono mai reso conto che ci potrebbero anche essere delle ceste come questa e a dire vero non ho mai notato questo tipo di stanza con questo un corsaletto di diamante lo prendo più che volentieri però non voglio danneggiarlo per ore quindi mi tengo un attimino su quello di maglia a questo punto anzi no mi tengo su quello di ferro che comunque ha la stessa protezione di quello di maglia e quello di ferro è già danneggiato con ciò purtroppo non so se saremo in grado di esplorare il piano superiore naturalmente ma comunque questa magione è sicuramente abbastanza interessante è mezza lo so ma comunque è abbastanza interessante lo stesso non so se ci sarà sicuramente qualcos'altro intorno perché appunto essendo un piano singolo praticamente non c'è nulla e infatti manca di contenuti questa magione però comunque diciamo che abbiamo avuto l'opzione di poterne esplorare un pezzo tra l'altro sento comunque che c'è un altro vendicatore qua in giro e non è quello che è caduto prima perché lo sento abbastanza vicino ok non è spawnato fuori bensì qua sopra c'è una parte che non sarebbe altrimenti accessibile no lascio un evocatore lasciamolo stare l'evocatore per favore e stavo appunto dicendo c'è una parte che non sarebbe accessibile né dal piano superiore né dal piano inferiore quindi a questo punto salgo da qua sperando che schifoso lo sapevo sperando che non mi attacchino e a questo punto devo trovare un modo sicuramente per salire lì sopra perché è abbastanza interessante vedo un attimino cosa riesco a fare magari spaccando le pareti del piano superiore riesco a fare qualcosa di decente anche se dubito di riuscire a battere un vendicatore così facilmente perché come potete notare fanno parecchio danno anche se effettivamente adesso ho un corsaletto di diamante buongiorno ok magari così riesco a batterlo perché lui non può prendermi quindi non dovrei farmi troppi problemi a batterlo in questa maniera tra l'altro droppano lo smeraldi che potrebbe essere molto comodo in caso magari vicino a casa mia nel deserto c'è ci fosse un villaggio quindi comunque li prendo molto volentieri gli smeraldi di questo ragazzo e qua sopra noto no tormenti no 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 questi fanno malissimo ragazzi devo lasciarli un attimino stare i tormenti perché quelli veramente mi fanno troppo male no 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 ok direi di lasciare a questo punto stare la magione anche se effettivamente abbiamo ricavato qualcosina ma a questo punto tornerò in futuro quando sarò equipaggiato meglio perché come potete vedere soltanto con un corsaletto di diamante neanche l'armatura completa in ferro purtroppo la magione è molto molto pericolosa e vorrei non morire all'interno di questa sede quindi a questo punto ragazzi direi di tornare a casa e fare un attimino un check per quello che abbiamo ricavato da questa esplorazione compresa anche la magione devo dire una cosa ragazzi però non sono deluso dal fatto che la magione sia glitchata infatti non mi è mai capitato di vedere una magione glitchata e non sapevo neanche fosse possibile di appunto verificare lo spawn buggato di un edificio pregenerato all'interno del gioco so che è possibile magari far buggare qualche villaggio qualche struttura come templi e cose di questo tipo con il passare degli aggiornamenti ma non sapevo fosse possibile buggare una struttura che era già generata all'interno di un determinato aggiornamento quindi sono abbastanza contento di aver verificato un glitch del genere e direi che comunque l'esplorazione è andata abbastanza bene per quanto riguarda oggetti casuali che per ora non utilizzerò quali magari granito, ghiaia, diorite e cose di questo tipo li depositerò qua abbiamo anche ricavato delle barbe da vietole ragazzi che sono veramente molto comode per il mio orticello che a questo punto andrò a completare in questa cesta metterò anche i drop dei mob che direi che sono abbastanza adatti per quanto riguarda la zona in utilità qua non so perché c'è del ferro che è avanzato da prima quindi direi di recuperarlo e per quanto riguarda appunto ferro, materiali e cose di questo tipo direi di depositarli nella prima cesta in basso a destra del magazzino quindi in questa qua direi che qui ci possono stare abbastanza bene i vari minerali che andremo a ricavare con il passare del tempo e nella cesta qua sopra a questo punto metterò le armature principalmente quella in diamante che mi ero messo un attimino prima per difendermi in caso dall'evocatore e quella di maglia qua per quanto riguarda invece la mera d'oro essendo un oggetto abbastanza raro che potrebbe essere utile per l'esplorazione in futuro la depositerò nella cassa che si trova al piano di sopra di casa mia e appunto lo metterei in questa cesta qua visto che comunque è un oggetto abbastanza utile per un'esplorazione in futuro a questo punto ragazzi direi di andare a piantare anche le barbabietole che oltre alla carota sono molto utili e a questo punto ragazzi con le ossa che abbiamo ricavato dagli scheletri uccisi durante l'esplorazione ci ho fatto della farina d'ossa che andremo ad utilizzare per farmare almeno un attimino questi nuovi semi da mettere all'interno dell'orto che secondo me sono molto molto utili spero che bastino gli spazi che avevo tecnicamente lasciato per decorazione e basta e a questo punto direi di far crescere qualche barbabietola qua e la carota che non mi ricordo dove avevo piantata devo aver piantata qua ok no queste sono carote sì sono carote perfetto non so perché mi sembravano troppo gialle per essere carote e a questo punto direi che siamo messi anche abbastanza bene con l'orto e fino a quando non mi distruggi l'orto mi va benissimo poi se cominci ad attaccarmi magari mi arrabbi ma finché non mi tocchi l'orto sono abbastanza contento e quindi direi ragazzi che l'esplorazione di quest'oggi è anche stata abbastanza profigua oltre ad averci ricavato qualche materiale in più per quanto riguarda l'orto te adesso sicuramente mi rovinerai l'orto quindi ti disintegro malissimo brutto schifoso e quindi ragazzi come vi stavo dicendo anche se questa esplorazione è stata abbastanza strana e abbastanza come dire spezzettata per quanto riguarda appunto il carattere esplorativo mi è piaciuta molto e soprattutto è stata molto proficua sia un attimino per il mio inventario sia appunto per il mio orticello che come potete vedere adesso ha praticamente bisogno delle patate delle zucche dei meloni e poi sarà un orticello completo detto questo ragazzi io spero vivamente che comunque questo episodio vi sia piaciuto se sì mi raccomando fatemelo sapere con un bel mi piace che oltre a supportare me la serie supporta anche il canale a questo punto ragazzi mi invito a farmi sapere nei commenti qualche vostra idea per quanto riguarda episodi futuri all'interno della serie io comunque ragazzi come sempre ci tenevo ad augurarvi una buona giornata una buona serata e a questo punto a vederci anche nel prossimo episodio ciao a tutti ragazzi